Questa sera parliamo di automobilismo e segnatamente di rally e parliamo con uno dei, tra virgolette, colpevoli, l'organizzatore di questo rally del quale ci parlerà, che è Delfino Laferma. Allora, signor Delfino, cos'è questo rally che lei ha il piacere e penso anche la fatica di organizzare? Assolutamente sì, tra l'altro questa è la ventiduesima edizione, noi quest'anno prendiamo lo scettro che ci ha passato la Caltanissetta Corsa, il vecchio organizzatore, è sicuramente una faticaccia, abbiamo fatto veramente l'impossibile per portare a casa un grande risultato, da come ci dicono i piloti, risultato centrato. Ma tra l'altro i piloti sono esigenti, quindi se lo dicono loro possiamo essere certi che è vero. Allora, ci spiega esattamente che rally è? Sì, questo consigli che fa parte del campionato di zona, quindi è valevole per la Coppa a Cixai, è la quarta prova del campionato di rally nella nostra zona di riferimento e logicamente sono venuti tutti quei piloti che vanno ad ambire alla finale che sarà per quasi fine anno e quindi più ponteggi si riescono a prendere, facendo più rally, più punti hai, più hai diritto di andare in finale. Allora, questo rally di Caltanissetta mi sembra di capire che si corra su strade, non vedo sterrato, è quasi tutto asfalto o mi sbaglio? Assolutamente sì, le prove sono tutte su strade asfaltate, logicamente i crono vengono fatti su strade ben identificate, quest'anno rispetto agli altri anni la gara è partita dalla piazza di Caltanissetta, abbiamo seguito i piloti nelle prove, la prima di Santa Caterina a Villarmosa, quindi sulla statale, poi da Santa Caterina siamo passati sulla strada che da Santa Caterina porta al Bivio per Marianopoli e abbiamo fatto pure l'altra strada che da Marianopoli porta verso San Cataldo, sono tutte strade di Anas e di provincia regionale. Che voi ovviamente avete chiuso il pubblico, è chiaro? Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi dica un po', signor Delfino, quanti piloti hanno partecipato? Allora, abbiamo avuto l'onore di avere 69 iscrizioni, poi confermate in 62 credo e 62 equipaggi hanno varcato la soglia della partenza, quindi hanno gareggiato. Tra moderni, quindi vetture di ultima generazione, se così ci possiamo dire, come le scuole 208 eccetera eccetera, assolutamente sì, e anche delle vetture storiche di prestigio, come la macchina che ha vinto il storico dell'avvocato Di Lorenzo, che è veramente bella e spettacolare. Lui la guida con tanta maestria e ha portato infatti il risultato a casa. Mi dica un po', il pubblico, come ha risposto? Tra l'altro è stata e fa caldo, penso che, insomma... Quella è stata una grande problematica, perché abbiamo avuto 50 gradi in alcune aree, quindi le posso dire veramente... Immagino la felicità dei motori, proprio, saranno stati felici. Assolutamente sì, abbiamo avuto qualcuno che si è pure dovuto ritirare per problemi, per le noie meccaniche, però nel complesso il pubblico ha risposto, si è comportato veramente bene, io ho visto un punto della San Cataldo che è il passaggio che abbiamo fatto il sabato, veramente c'erano le montagne piene di pubblico, quindi io sono più che soddisfatto da organizzatore per il risultato ottenuto. Mi dica un po', l'organizzazione di un rally, che chiaramente parte da lontano, ha una parte ovviamente logistica, allestimento del percorso, i giudici di gare e tutto quanto, ma anche una parte, come potrei dire, promozionale. Come reclutate i corridori? Assolutamente, quest'anno era importante fare la manifestazione perché come le dicevo io prima, questa è la quarta tappa del campionato di zona, i piloti hanno bisogno di prendere dei punteggi delle gare titolate come la nostra, perché questo faceva parte della 22esima edizione che facciamo questa gara, di validità per il coefficiente che identifica la manifestazione della nona zona. Quindi questa è la quarta gara, quindi i piloti si devono iscrivere, se vogliono prendere punteggi, nelle gare quelle titolate. La nostra è stata titolata sia per i rally nazionali con le moderne, ma anche come ottavo rally storico. Ecco, lei sicuramente è un esperto, più di me è un addetto alla vostra. In questo tipo di rally, quant'è la fatica del navigatore? Ma guardi, la fatica secondo me è divisa, nel senso che il navigatore è importantissimo, è la parte vitale dell'equipaggio, però quello che butta veramente tanti sudori è il pilota, perché le posso garantire tra le frenate, le grandi staccate che le dico, le consiglio che una frenata in un lungo di 100 metri, siamo intorno ai 40-50 kg di pressione nel pedale del freno, quindi capisce bene che ci sono tante staccate e rallentamenti, quindi più uno frena, più si stanca, girare lo sterzo, scalare, quindi le dico che la fatica caccia è vero che ce l'ha pure il navigatore, che è una figura importantissima, ma il pilota se la suda veramente. Ma me l'aveva una curiosità, io ho visto molti anni fa uno o due rally della lana quando sta Fabiella, è vero che d'inverno, neve, ma è vero che in certi rally il pilota manco la veda la strada, si fida solo del navigatore, dice più, più, eccetera, eccetera, non hai il tempo di vedere la materiale. Assolutamente, diciamo non è proprio così, nel senso che con i passaggi regolamentari con i passaggi regolamentari che sono obbligatori, il pilota dà riferimenti al navigatore, quindi scrive le note e poi, come diceva lei, anche se poi ormai c'è la tecnologia che aiuta con i monitor, quindi rivedono i video, eccetera, eccetera, da monitor prendono di nuovo le note, le vanno a fare le correzioni, però è vero, ci fidiamo, i piloti si fidano nettamente dal navigatore, perché poi come le dicevo è un gioco di squadra, quindi quello che dice il navigatore diventa veramente importante, è legge, assolutamente, sì, sì, sì. Andiamo verso la parte finale, siamo già a otto minuti, chiaramente correre con certe temperature, al di là del discorso del motore che sicuramente ne soffre, che sono macchine che tirano, non sono certo 500 di una volta, anche un dispendio fisico, devono rimanere idrati e tutto quanto, bevono durante il rally piloti? Assolutamente sì, noi tra l'altro quest'anno abbiamo fatto qualcosa, io da pilota mi sarebbe piaciuto trovarlo nel rally che ho fatto, quindi quest'anno da organizzatore ho fatto in modo che, a maggior ragione che caldo che c'è, ho fatto preparare dell'acqua per ogni pilota e navigatore a ogni fine prova, perché con 51 gradi all'interno, perché abbiamo fatto poi dei sondaggi tra i 51 e 55 gradi dentro gli abitacoli, ricevere una bottiglietta acqua fresca a fine prova speciale le posso garantire che è stato di beneficio veramente per tutti gli equipaggi. Allora Delfino, andiamo a chiudere, ovviamente le auguriamo una vita lunga per questo rally che dopo 22 anni ormai è ampiamente maggiorenne, idee, innovazioni, sogni per le prossime edizioni? Assolutamente, cercheremo sempre di migliorarci, noi tra l'altro ci confrontiamo sempre con la nostra delegazione sia provinciale ma soprattutto la delegazione regionale guidata da Daniele Settimo che ci indica il percorso migliore per arrivare agli obiettivi, i nostri obiettivi sono quelli di continuare al massimo e al meglio possibile con la nostra gara, il prossimo anno, si sta già parlando del prossimo anno, spero di riuscirla a organizzare con meno problemi. Magari anche qualche grado in meno, insomma, no? Speriamo, ecco, valuteremo la data, quest'anno valuteremo la data in delegazione. D'accordo, allora, complimenti ancora, la salutiamo e ci auguriamo di continuarla e seguirla a lungo. Grazie Delfino, buonasera a tutti. Grazie, grazie a tutti, di nuovo, salve.